Buongiorno, bentornati amici e amiche sulla mio canale. Ero mancata per un po', ho avuto dei problemi a casa mia a Vigevano e avevo il computer in riparazione e adesso invece mi è stato ridato come nuovo, come volete vedere, potete vedermi anche meglio. Comunque, oggi si parla ovviamente come sempre di profumi e parlo di una nuova collaborazione che sono stata molto molto felice di fare con un'azienda che produce non soltanto prodotti profumi ma anche proprio prodotti di cosmetica e di salute per la pelle, per il corpo. Allora, l'azienda di cui parlo è la Essence, che è questa, questa azienda che ha la sede nella Repubblica Ceca. Io sono stata messa in contatto con un signore italiano che si chiama Pierluigi che è stato veramente gentile, l'ho contattato e mi ha dato tutte le informazioni e mi ha regalato in omaggio appunto questi due profumi da ben 50 ml. Allora, devo premettere che questa azienda tratta appunto di prodotti anche per la cura della pelle, di cosmetici, di make-up. Io, essendo interessata per questa prima volta ai profumi, ho preferito puntare appunto sul profumo perché era il prodotto che mi interessava di più per il momento, ma sicuramente farò un'altra collaborazione. Allora, qui sotto nell'info box vi do il sito internet di questa azienda dove viene spiegato tutto un po' il loro marketing, i prodotti che vendono, come vengono realizzati. Sono prodotti che vengono usati anche nel settore medicale, nel senso che anche i medici usano i loro prodotti per risolvere alcuni problemi tipo l'alopecia, le punture d'insetto, insomma sono prodotti seri e garantiti al 100% perché vengono utilizzate materie prime. Ma parliamo ovviamente dei profumi che sono la mia grande passione. Allora, il signor Pierluigi, gentilissimo, mi ha mandato due profumi da 50 ml che non sono pochi, che li avevo richiesto io. Io vi manderò qua sotto un elenco dei loro profumi e voi potete contattare questo signore o contattare l'azienda e poi lui accetterà i vostri ordini. Vi do anche un codice sconto che è il numero 920124226 che vi servirà per iscrivervi e per avere appunto degli sconti sui vostri acquisti. Ma parliamo dei profumi. Allora, il primo di cui voglio parlarvi è questo... è un profumo di ispirazione, come potete vedere. Vengono venduti in questa scatola. La boccetta è carinissima. È così. Sono di quelli che una volta aperti, penso, si possano ricaricare ma non sono sicura, non vorrei romperla. Ecco, quindi ve la faccio vedere così. Allora, questo è ispirato a Manifesto di Yves Saint Laurent. È un profumo che io ho posseduto anni fa e non trovandolo più in giro l'ho letto nell'elenco di questa azienda e ho provato a sentire la veridicità di questo profumo e devo dire che è veramente identico, preciso all'originale. di cui adesso vado a leggervi le note. Allora, Manifesto, che è un profumo da donna, viene definito vanigliato, legnoso, fruttato, talcato, floreale bianco, aromatico, dolce, verde, ambrato e speziato. Il profumo è un profumo che è stato lanciato sul mercato nel 2012 e i nasi di questa fragranza sono En Filippo e Loc Dong. Allora, le note di testa sono Ribes Nero, Bergamotto e note verdi. Le note di cuore sono Gelsomino, Sambac e Mughetto. Le note di base sono Vaniglia, Fava Tonka, Sandalo e Cedro. Come potete capire, è un profumo prettamente invernale, vanigliato e orientale. Allora, è veramente molto buono. L'ho usato uno di questi giorni perché, pur essendo un profumo invernale, era una serata fresca, aveva piovuto, quindi era proprio il profumo ideale. È buonissimo. Cioè, vi posso assicurare che risveglia i sensi dell'originale che non so se si trova ancora in produzione. È molto vanigliato e floreale nello stesso tempo, molto femminile, molto elegante. Io vi parlo proprio di questo profumo ispirato all'originale manifesto. È veramente consigliatissimo. Comunque poi nell'elenco che vi manderò troverete ovviamente tutti gli altri profumi che sono sia da uomo che da donna. Allora, il secondo profumo che mi è arrivato in omaggio, sempre da questo gentilissimo signor Pierluigi, è un profumo di... l'ispirato ha un profumo di montale che io ho sentito, che però non ho mai avuto. e sono contenta di avere questo ispirato perché è buonissimo. È il Rosy's Mask. Qui sull'elenco dei profumi ovviamente avrete anche i codici di riferimento. Comunque il Rosy's Mask è il W158, mentre il manifesto si chiama, o perlomeno il suo codice di riferimento, è il W180. Allora, il Rosy's Mask è fantastico, assolutamente fantastico. È assolutamente preciso, identico all'originale di montale, di cui vado a leggervi le note. Allora, il Rosy's Mask di montale. Leggemo gli accordi principali, che sono rosa, muschio, talcato, floreale, floreale, bianco. È un profumo un po' per tutte le stagioni. È stato lanciato sul mercato nel 2009 e il naso di questa fragranza è Piermontale, o Montal, che dir si voglia. Allora, le note ve le ho già dette, che sono la rosa, il muschio e il gessomino. È un profumo che nella sua semplicità ha un'eleganza e una raffinatezza incredibili. Allora, io posso assicurarvi che, avendo avuto modo di sentire il Rosy's Mask originale addosso a una mia amica, perché non esistono campioni dei profumi di montale, se trovate dei campioni di profumi di montale, sono tutti fake, sono falsi. Questo perlomeno è un ottimo profumo ispirato, e me lo spruzzo proprio oggi. che piove. E devo dire che è favoloso, ha questa rosa dolce, matura, con queste spezie. È un profumo veramente delizioso, sicuramente lo ricomprerò qui da Essence, perché mi sono trovata veramente bene. Allora, volevo farvi due note un attimino sempre della Essence. Il gentilissimo signor Pierluigi mi ha mandato un elenco di cose e di prodotti che vengono utilizzati nei loro prodotti per farmi luce, praticamente io che sono ignorante in materia, della veridicità e della naturalezza dei prodotti che vengono usati nei loro profumi, nei loro cosmetici, nei loro make-up. Allora, io vi leggo un sunto di quello che mi ha scritto lui. Allora, questo prodotto detto dai professionisti del settore è il miglior prodotto che possa esistere sul mercato. Essin Bio Microbione Caps Integratore Alimentare Allora, contenuto in peso 16 grammi, 30 capsule. Allora, io non vi sto a leggere, mi perdoni il signor Pierluigi, ma non sono in grado di leggere tutti questi termini tecnici Lactobacillus, Bifido, Cacterium. Farei una brutta figura, comunque la metterò in contatto con persone che saranno interessate ad avere questo prodotto. Allora, è un supporto, ecco, è un supporto nel controllo funzionamento del tratto digestivo e dei trattamenti infiammatori intestinali. Supporto nel trattamento delle malattie delle pelle incluse, dermatiti atopiche. Supporto nel sistema immunitario. Possiede un'influenza positiva su allergie e malattie autoimmuni. Ha un effetto positivo sul diabete, cosa molto importante. Supporta per funzioni mentali, stati d'animo, memoria e depressione. Ha un effetto positivo sul sistema vascolare e malattie cardiovascolari. Ha una protezione epatica e disintossicante dell'organismo. Allora, io vi mando qua sotto appunto il nome di questo prodotto e poi ci sono delle foto che dimostrano effettivamente gli effetti positivi di questo prodotto che io acquisterò sicuramente. Poi ce n'è un altro che è praticamente un detergente che guarisce tagli, mal di gola, afte, gengiviti, mal di denti, abrasioni, scottature, dolori, dermatiti, punture di insetto, punture di meduse e contusioni. Insomma, andate in questo sito. Questi prodotti vengono usati anche in medicina, quindi io penso di aver detto tutto su questa azienda che fa questi prodotti veramente validi e ottimi, come questi due profumi che ho ricevuto da questo gentilissimo signore. Vi mando tutti i recapiti, soprattutto il loro sito, dove potete vedere, acquistare, ordinare e vi ripeto il mio numero che comunque è il codice che potrete usare per avere degli sconti che è il 920124226 ve lo scrivo anche qua sotto nell'info box e che dire di più acquistate qualche prodotto da questo signore, da questa azienda seria e veramente molto gentile e disponibile. Questo è stato il mio video, io ringrazio chi mi ha ascoltato, do un saluto e un grandissimo ringraziamento al signor Pierluigi che è stato così gentile e vi do l'appuntamento al mio prossimo video. Detto questo vi auguro una buona giornata. Ciao da Antonelli.